Andiamo ad aprire questo pacco che mi è arrivato. Sicuramente ha a che fare con la mia attività, con i miei committenti. Vediamo cosa c'è al suo interno. Una bella rivista, la stavo aspettando, è il numero 48 di Legno Architettura e al suo interno c'è il progetto dell'unica casa in Italia in paglia certificata Arca. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo certificato con questo sistema le strutture, fuoco, sisma. Abbiamo certificato l'efficienza energetica della casa, infatti è una casa che consuma poca energia. Abbiamo certificato anche i materiali, basso impatto, non solo ambientale perché abbiamo utilizzato la paglia e il legno, ma anche senza rilascio di sostanze nocive per gli abitanti. Cosa certificazione? Anche dal punto di vista della salute. Sfogliamo la rivista, andiamo a vedere qualche pagina del progetto, se lo trovo. Passiamo a pagina 72, Villa in Paglia, realizzata a Castelberforte. Guardate che bella! Questa è la foto della casa ultimata. dove si è da un impianto fotovoltaico che dà energia alla casa per riscaldarsi. Le foto abbiamo ripreso la tipologia della corte tipica mantovana. Gli interni in argilla. Ecco qui la pianta caratteristica, seguendo anche i principi del benessere, tutte le camere rivolte a est e il soggiorno, la zona giorno, a sud e a nord. Questi i dettagli dove ci sono il disegno delle strutture tridimensionali in legno dove all'interno abbiamo messo la paglia. Il dettaglio costruttivo, eccolo qua. E queste le fasi costruttive del nostro modulo in legno e balli di paglia, dalla carpenteria fino alla posa dell'argilla. Materiale fondamentale delle nostre case, perché così ci evitiamo molti impianti. Infatti l'impianto di ventilazione quasi sempre non lo mettiamo mai, salvo che in casi particolari. Questo progetto lo si trova all'interno di legno architettura 48, che è la rivista, una delle poche riviste in Italia, che si dedica a progetti realizzati in legno e a basso impatto ambientale. Questa è una soddisfazione chiaramente sia per me che per il mio committente, progetto di qualche anno fa, abbiamo portato avanti questo progetto insieme ed è appunto questa villa in valle di paglia realizzata in Lombardia a Castel Belforte. Ciao a tutti!